ATRATECH ci sei? guarda che ti ho visto passare MATRATECH guarda che ci conto eh MATRATECH Matteo come ti devo chiamare guarda che quando vieni al mondo tu le proiezioni vedi mettere le mani adesso al mio figlio non lo farei neanche morto capito? dimmi solo dov'è certo no non ce la faccio è più forte di me sono proprio un padre per bene devo essere ancora un po' corretto perché la spavalderia l'abbiamo un po' tutti però basta basta no